Il lotto a suo dire aveva perso la sua capacità edificatoria per la costruzione di una quarta palazzina, ma il giudice del Tribunale di Sulmona Giulia Sani ha respinto il ricorso dell'imprenditore Antonio Rubeo sulla cosiddetta città della sanitaria di via Buco della Grotta. Rubeo aveva trascinato in giudizio il comune di Sulmona e le imprese che operano nell'area, chiedendo un max risarcimento di 900.000 euro, la casa funeraria Calendo Celestial, Nauge SRL, New Deal, Centro Servizi, Ponte Nuovo, oggetto della diatriba e l'autorizzazione a costruire relativa a progetto invariante al plano volumetrico già approvato necessaria per l'edificazione. L'imprenditore ha avanzato una serie di rivendicazioni urbanistiche per il lotto ricadente in via Buco della Grotta, con le società Rubeo era proprietario della maggior parte dei terreni, ricompresi nel lotto in questione. Li aveva venduti a terzi, per poi lamentare che l'area ha perso la capacità edificatoria prescritta dalla legge perché l'ente avrebbe omesso delle verifiche sui permessi a costruire. Una tesi del tutto infondata, secondo il giudice Sani, che non solo ha respinto in toto i motivi del ricorso, ma ha condannato l'imprenditore a pagare circa 150.000 euro delle spese di lite in favore dell'imprenditore, che ha citato in giudizio. Le indagini svolte e le conclusioni raggiunte dalla consulenza tecnica d'ufficio consentono di affermare che la denunciata sottrazione di capacità edificatoria non si è mai realizzata, in quanto FIR, la società di Rubeo, non disponeva della superficie fondiaria utile e prevista dalla normativa urbanistica, si legge in un passaggio della sentenza della Sani. Ricorso respinto e niente risarcimento.